Tutto cominciò quando Dio si accorsa che si stava ennoiando E ora! Ma adesso vieni, ormai è tardi! Eh che schifo! Tu vorresti? Cretino! Non sapevo sapere che ti basta per la testa brutto idiota! Cretino! Ah! 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 Ok! Ah! 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 Qui giù c'è casa! Ahahahahahahahahahah Oh ok! 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 Comunque cosa c'era? No, niente... che... ma... 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 ma da quando hai bisogno di fare la spesa? In che senso? Scusa, da sempre. Ah, scusa, ma i pani e i pesci non li potevi moltiplicare? Eh, certo, ma almeno un paio li devo comprare, altrimenti che faccio? Moltiplico per zero. Ah. Dio, vieni, ci sono delle banane nell'orto. Come? Scusa? Computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. De me che risolvi il problema. Lasciatemi passare. E' giù! Da dove hai preso quei cosi? Amazon! Ah, spero almeno che non abbia usato la mia carta. È vero che... Ad si sfasciò il ginocchio e ci ordinò di costruirla. Adri, come raggiungiamo l'altra sponda? Del pianeta per eliminare ogni prova. Cioè, capisci? Così mi metti in diffic... Ma solare? Adri davvero ne ha bisogno! Non ci sono stazioni di serv... Se Dio esce siamo nei quali. Cioè, capisci? Cioè... ... ...